La nostra richiesta di audizione è perché i comitati e i cittadini hanno chiesto di poter essere ascoltati in riferimento al problema degli stoccagi di metano in relazione all'esercizio e nuova progettazione nella regione Lombardia. Siamo qui a chiedervi precise risposte in merito alla sicurezza per i cittadini lombardi, è un nostro diritto ed anche un vostro interesse e dovere di consiglieri regionali e dare risposte certe alle nostre richieste. Cominciamo da una delle questioni importanti che riguarda i piani di emergenza esterna poiché gli stoccagi di metano sono considerati dal 2009 attività a rischio di incidenti rilevanti e soggetti alla direttiva Seveso 334 del 1999 e dalla necessità di piani di emergenza esterna. Allora, come mai ci chiediamo e vi chiediamo, gli impianti di Brugheri o Settala, Cerniano o Ripalta Cremasca sono attivi senza piani di emergenza esterna? C'è un esempio anomalo perché Bordolano ha il piano di emergenza esterna solo da giugno 2013 per il solo cluster B in funzione da luglio 2010, mentre mancano i piani di emergenza esterna per il cluster A, la costruenda centrale di stoccaggio e non li prevede nemmeno il PGT approvato dal Comune di Bordolano nel maggio 2013. Perché nel PGT di Bordolano mancano le indicazioni dalle tubazioni che circondano il Paese e collegano rete SNAM, cluster A, cluster B e centrali di stoccaggio. Questa è una lettera del UNMIC di Bologna che dice in data 15 maggio 2012 che si sta iniettando metano nel sottosuolo e nel cluster B in particolare. Però si inietta metano senza, sono strutture nuove, i motocompressori del cluster B senza valutazione di impatto ambientale. Questo è un dettaglio e questo è il gas immesso in giacimento è prelevato da un metano adotto SNAM a bassa pressione, il gas viene iniettato con una pressione dinamica test e posto di 148 bar. 15 maggio 2012. Questo cluster è in funzione tra luglio 2010 senza piano di emergenza esterna. Questo è il piano, il cerchio blu è praticamente il piano di emergenza esterna per il solo cluster B redatto dalla prefettura di Cremona nel giugno 2013, tre anni dopo l'entrata in funzione del cluster B. I cerchi rossi che vedete sono quelli che mancano riferiti al cluster A e alla centrale. La cosa che lascia qualche perplessità è che il cerchio blu arriva a sfiorare il paese, i cerchi rossi coinvolgerebbero tutto il comune di Bordolano e questo ci fa venire il dubbio sulla effettiva volontà di fare i piani di emergenza esterna se dovessero intaccare i centri abitati. Qui questa documentazione sono gli elementi per pianificazione delle emergenze esterne fornite dalla società Stogit nel gennaio 2010 per quanto riguarda Serdiano. Vedete le zone rosse che sono a elevate probabilità di letalità per persone sane non adeguatamente protette. La zona verde danno i gravi reversibili per persone sane non protette o maggiormente vulnerabili. Quindi si tratta il metano, è ovviamente un gas infiammabile, è estremamente letale, altamente letale. E questo è un dettaglio dalla pianificazione che avete visto prima. Sulla destra vedete sulla sinistra il cluster B e nella zona rossa è compreso il campo di calcio nel quale viene effettuato regolarmente da anni il campionato di calcio di terza categoria della fisici. Gli spettatori pagano il biglietto d'entrata ma non sono sicuri di poter uscire. Brugheri e stoccaggio, questo è la realtà, in realtà si chiama Brugheri e stoccaggio, la località dove trovate queste infrastrutture è Cinisello Balsamo via Sordello da Mantua, sono dati della Stogic. Nella striscia nera che vedete tra il contorno rosso è la tangenziale nord di Milano, l'A52. Sotto la tangenziale ci sono le turbazioni che collegano la parte sud e la parte nord dello stoccaggio di metano. Ovviamente tutto senza piani di emergenza esterna. Ecco allora noi ci chiediamo di conoscere qual è la posizione attuale per la questione dei piani di emergenza esterni che mancano, della regione, del CTR, delle prefetture e quali altri impianti che in direttiva seveso in Lombardia funzionano da 4 anni senza piani di emergenza esterna. Saremmo curiosi di andarle a conoscere. Valutazione per quanto riguarda l'attualità di Bordonano stoccaggio. Bordonano stoccaggio è attualmente uno stoccaggio o no? Perché ci facciamo questa domanda e perché vi poniamo questa domanda? Perché ci sono tre elementi che sono contradditori tra di loro. Il primo è la DGR, DRG, informativa terzi del 20 marzo 2013, 15-68, il provvedimento direttoriale 18-804 del Ministero dell'Ambiente dell'8 agosto scorso, il decreto del Ministero dell'Ambiente 14-583 del 16 maggio 2014, cioè di qualche giorno fa. Che cosa dice la deriva della Giunta regionale? Dice che Bordonano è uno stoccaggio attivo. Il provvedimento 18-804 dice che nelle prescrizioni si dovrà fare una rete di monitoraggio sismico perché per la durata di almeno un anno consecutivo prima delle entrate in esercizio dell'impianto dovranno essere fatte delle verifiche, le condizioni di microsismicità locale ante opera. Un anno prima delle entrate in funzione. Poi il 14-583 del 16 maggio scorso dice ancora, ribadisce che i nuovi progetti dovranno avere un monitoraggio sismico di una durata di almeno un anno prima dell'avvio dell'attività. Prima dell'avvio dell'attività. Allora come sarebbe possibile ci chiediamo di monitorare almeno un anno prima se lo stoccaggio è già attivo? Quindi noi chiediamo questo chiarimento alla Commissione e alla Regione. Qui vedete il cartellone che dice che a Bordonano sta lavorando la Max Stryker per costruire la nuova centrale e queste sono le gru delle costruzioni della nuova centrale di Bordonano. Quindi non è attivo ma c'è la centrale che sta per essere costruita. Panoramica sulla sismicità naturale. Quelle che vedete sono le sorgenti sismogeniche naturali che sono presenti nel sottosuono Lombardo a diverse profondità tra i mille e i 2000 metri. Questo è il cerchi rossi che vedete, sono i raggi di 10 km, direttiva 18804 per Bordolano e direttiva del Ministero dell'Ambiente 532 dal 15 ottobre 2012 per quanto riguarda Serdiano. Il raggio di 10 km vuol dire che tutto questo territorio è coinvolto nel rischio sismico provocato dalle attività di stoccaggio di metano. I cerchi che vedete coinvolgono 116 comuni lombardi e oltre un milione di persone che sono praticamente all'oscuro di quello che sta succedendo. E ovviamente quello che vedete, gli stoccaggi di metano sono praticamente tutti sopra le sorgenti sismogeniche ad eccezione di Brugherio e di Corneliano-Laudense, ma Corneliano-Laudense si è verificato un terremoto nel 1951 causato dalla estrazione di metano. Quello che vedete è il serbatoio del stoccaggio di Bordolano, le righette gialle che vedete sono i nuovi pozzi perforati e scendono tra i 1600 e 1900 metri. La sorgente sismogenica ITCS 002 in questo punto è a 2000 metri di profondità e i nuovi pozzi perforati sono arrivati anche a ridosso della sorgente sismogenica. I scienziati internazionali dicono che è un rischio iniettare liquidi a forte pressione sopra le sorgenti sismogeniche. Bordolano l'emissione di metano verrà a 240 val di pressione, Cerniano 200, 188 Romalenga, eccetera. Questa è la distanza tra il cluster B e la sorgente sismogenica. Come vedete, dati dell'Ingv, la distanza del cluster B di Bordolano alla sorgente sismogenica sono 1140 metri, ovviamente in linea d'aria. Sulla questione, altra questione, la rete di monitoraggio sismico. Allora, l'ARPA Lombardia è in grado di gestire una rete sismica specializzata al monitoraggio di uno stoccaggio in giacimento depreto? Ovvero quali persone, quale reparto abilitato a tale gestione esiste? Quali sono gli accordi in essere tra Regione Lombardia gestore di stoccaggio per ottenere i necessari dati industriali da correlare a quelli sismici? Ci chiediamo allora, l'ARPA Lombardia è in grado di gestire una rete sismica specializzata al monitoraggio di uno stoccaggio in giacimento depreto? Vediamo quello che dice la relazione finale dell'ultimo provvedimento che è stato approvato il 16 maggio anno scorso. Che cosa dice? Allora, dice che le competenze di ARPA per quanto riguarda la predisposizione della rete di monitoraggio, in effetti l'esperienza ha evidenziato che per alcune regioni, Veneto, i suddetti enti si sono dichiarati incompetenti a sovrintendere o a collaborare questo tipo di operazioni e alle relative valutazioni. Poi ci chiediamo la relazione di questa commissione via, si chiede se la trasmissione dei dati, chi deve fare il monitoraggio e la trasmissione dei dati. Può essere lasciata al solo proponente se la chiede la stessa commissione via nazionale, non ce lo chiediamo noi. E poi la necessità di determinare quale sia l'organo che può essere istituzionalmente deputato nel caso che la microsismicità indotta supere la magnitudine locale. Allora, si fa un elenco di organismi secondo loro potrebbero essere interessati da questa valutazione. Commissione di grandi rischi, INGV, Commissione degli idrocarburi, risorse minerali, gli uffici territoriali, UNMI, ma gli stessi non sono, questi tutti uffici, non sono dotati istituzionalmente di tali competenze e in particolare, ad eccezione degli uffici UNMI, del potere di disporre la sospensione dell'attività di stoccaggio. Questo potere nessuno ce l'ha, ci manca la persona che ci mette la firma e la faccia. Vediamo qual è lo stato attuale dell'attività di stoccaggio in Lombardia. Pensiamo che sia forbiante e dannoso pensare che l'attività di stoccaggio sia sviluppata da impianti indipendenti e assestanti. Qual è la situazione complessiva rispetto agli impianti? Quali funzionanti sono quelli storici? Brugherio, Settala, Serniano, ripalta cremasca. In intinere, con progetti più o meno avanzati o approvati, sono Romanengo, Bagnormella, Capriano del Colle, Bordolano, Corneliano, Naudense, Sovrappressione, Assettala, Serniano, ripalta cremasca. All'orizzonte sembra rilinearsi Voltido, Pia de Novest. E questa è la situazione complessiva rispetto alla sismicità naturale. In rosso le soggetti sismogeniche naturali, naturalmente presenti nel nostro sottosuolo. Gli stoccaggi sono evidenziati dalle rettangoli in grigio e quella riga blu che vedete non è un nuovo canale navigabile ma è il metanodotto Zimella-Cervignano da 1.400 mm che è posizionato a 1 m e 1 m sottoterra sopra le soggetti sismogeniche. La pressione del metanodotto è di 75 bar. Capito. E questa è l'esposizione che abbiamo fatto alla documentazione che mettiamo anche a disposizione dalla Commissione. in Olanda, per legge, questi impianti devono essere costruiti a 100 km dalle faglie sismogeniche naturali in Italia. Grazie. Grazie a lei. Se mi sono state richieste, prego. Un attimo. Volevo fare una considerazione di carattere generale. Cioè, volevo far notare che noi siamo tutti privati, persone private, volontari, che sono qui stamattina compiendo alcuni sacrifici, togliendo tempo al nostro lavoro. Non abbiamo alle spalle nessuna organizzazione di profitto o politica che ci spiga a fare questo. Quindi queste motivazioni le do per fare in modo che sia chiaro qual è il nostro intento e per soprattutto saglare il fatto che le cose che diciamo le diciamo perché ci crediamo le abbiamo maturate a costo di sforzi personali e quindi volevo far presente a questa cosa. Penso che per una Commissione come la vostra sia molto interessante sentire un parere visto in questo modo. Ecco, questo lo volevo dire. Grazie. ho lineato un quadro che forse, come dire, del quale non eravamo a conoscenza noi come Commissione Ambiente ed è un tema di cui forse a livello istituzionale poco si è trattato e poco si tratta. credo che, adesso anche guardando quest'ultima diapositiva, sia interessante e che la Commissione si debba tutta interessare della cosa e porre forte attenzione a questo argomento perché come si vede sono implicate numerose questioni, si parla di sorgenti sismogeniche, in grado di generare sismi, si parla di stoccaggi, si parla di metanodotti, si parla di piani di emergenza esterna che a quanto detto non sono stati elaborati, seppure la legislazione lo prevede, si parla di ARPA che non sarebbe in grado, comunque secondo quello che è scritto nelle documentazioni di altre esperienze in altre regioni, di istituire una rete microsismica di monitoraggio microsismico valido per monitorare la situazione e tutto questo si inquadra in un'ottica di impatto cumulativo perché ovviamente questi stoccaggi per chi conosce la geografia della regione Lombardia sono veramente molto vicini gli uni con gli altri. Quindi credo che la Commissione debba prendere atto di questa esposizione e interessare sicuramente l'assessore all'ambiente e l'assessore anche della protezione civile per avere chiaramente risposto in merito a questa questione, ricordando tra l'altro che in altre regioni la questione, penso all'Emilia Romagna, la questione è stata affrontata forse con più interesse e attenzione anche in relazione agli eventi sismici del 2012 che tutti conosciamo e in relazione anche a una relazione di una commissione di esperti, la cosetta commissionichese, che ha fatto delle valutazioni sull'attività sismica e questo tipo di attività di stoccaggio eccetera. Questa è la considerazione. Scusa signor Presidente, posso? Non vorrei violare? No, no. Un'altra precisazione che volevamo porvi e informarvi riguarda anche l'eventuale risarcimento danni. In Olanda, sempre in allogia per legge, in occorrenza di sismi indotti che dovessero arrecare danni a cose e persone, per legge queste società sono costrette a rimborsare danni. Una delle più importanti società di stoccaggio ha stanziato 100 milioni di euro per stare a fronte ad eventuali richiesti di danni. da noi, ad esempio a Corneliano, dove ci siamo occupati specialmente di questo impianto, l'autorizzazione è stata data ad una società che è una SRL che ha 20 milioni di capitale sociale e 22 dipendenti. Ci chiediamo se in occorrenza di un danno avverrà la famosa socializzazione delle perdite. In questo caso sarà chiamato chi? La Regione? Lo Stato? dell'eventuale in corso. A mio avviso si dovrebbe aumentare il tasso di sensibilità rispetto anche al danno in corso. Quindi avere fideiussioni, avere delle polizze assicurative specifiche sulle eventuali danni in causa. Grazie. Prego. Grazie a te. Grazie a te. Meriti un approfondimento prima di poi concretamente far sentire la voce della Commissione, ma in punto di approfondimento lo trovo sicuramente importante se non addirittura opportuno. non c'erano ulteriori richiesti di intervento, pertanto ringrazio i signori che sono intervenuti. L'auspicio è che si possa dare una risposta ai numerosissimi quesiti che avete posto, magari anche in tempi sufficientemente certi. Grazie, buona giornata. Sì, grazie. Ecco, come ha ribadito lei, ci attendiamo delle risposte in tempi possibilmente certi. anche perché in particolare a Bordolano stanno proseguendo i lavori vicino alla sorgente sismogenica e anche la questione degli stoccaggi di Sardiano e di riparte cremasca sono un problema attuale. Quindi già oggi sono in essere con tutta una serie di problematiche che vi abbiamo illustrato e che meritano un'urgente presa di coscienza da parte di tutti e delle determinazioni più consone alla realtà della Lombardia che è il quarto paese europeo partito. Grazie. A lei, buona giornata.